Il tempo perché è il problema fondamentale della nostra società ed è un problema fondamentale dell'educazione. Il correre, non avere mai tempo per niente, è quello che sta rendendo difficile educare dando spazio alla relazione. Ed ecco perché tempo è necessario rifletterci e capire che l'atteggiamento che stiamo avendo nei confronti del tempo non è una cosa che non ha importanza. Non è un problema solo individuale ma è un problema su cui dobbiamo riflettere e dobbiamo prendere delle visioni educative.